Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Voi vi ricordate che Luigi Di Maio dà le dimissioni un po' per dissimulare, il movimento dal 33 passa al 15, perde la metà dei voti, si cominciano a concentrare su di lui tutti gli odi all'interno del Movimento 5 Stelle, così lui decide di andare via contro la volontà di Beppe Grillo un po' per far capire che non è colpa sua, un po' per scaricare su qualcun altro e arriva Vito Crimi, un anonimo deputato del Movimento 5 Stelle che subito dice, dicono che io sia l'uomo giusto al momento giusto, completamente anonimo, insipido, e lì ogni tanto dice qualcosa ma completamente assente, ovviamente il Movimento 5 Stelle è come se non avesse un capo politico, ma lo statuto del Movimento dice che dopo 30 giorni dalle dimissioni del capo politico, in quel caso Di Maio, ci doveva essere un nuovo capo politico il Movimento 5 Stelle in questo momento è diviso, si dice, in 4 partiti al suo interno e questi 4 siano divisi successivamente in altre due parti quindi come se ci fossero 4 partiti e 8 correnti all'interno di questi 4 partiti quindi ormai c'è caos, c'è campagna elettorale nel Movimento 5 Stelle per la scalata alla leadership però, attenzione, scalata o non scalata, chi decide è sempre Beppe, Beppe il Grillo e quindi alla fine è lui quello che dà o non dà il bene placido per questo o per quella persona e quindi negli ultimi giorni la nuova votazione era stata invocata dall'ala di Barbara Lezzi, Ignazio Corrao che spinge per Di Battista nuovo capo politico e caldeggia anche, secondo indiscrezioni, caldeggiata da Davide Casaleggio e non è poco avere l'appoggio di Davide Casaleggio, il figlio del cofondatore con Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle Io personalmente spero nell'elezione di Di Battista perché? Piuttosto che un altro anonimo burocrate come può essere Vito Crimi o altre persone non fatemi dire esattamente quello che penso, che non è simpatico, ma le uniche due persone si era sentito poi addirittura di Virginia Raggi, mi viene la pelle d'oca a pensare solo meglio che non dico niente, quindi tra tutta questa platea di persone anche qui in questo caso è meglio che non dico niente solo Di Maio e Di Battista mi sembrano quelli più mediatici nel senso che Di Maio, l'uomo che sussurrava il virus ma volete toglierci Di Maio il piacere di fare dei video per parlare dell'uomo che sussurrava il virus che aveva sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza? non mi potete togliere Di Maio, veramente quindi se proprio Di Maio non lo volete rieleggere, cari 5 stelle allora Di Battista è un guerriero, nel senso che uno che dice le cose come stanno diciamo che è un po' l'alter ego di Salvini è l'alter ego di Salvini, sono molto simili, sono molto diversi ma simili quindi io preferisco soprattutto Di Battista fateci vedere Di Battista capopolitico come litiga dal primo minuto che è capopolitico con tutti e quello che combina fateci vedere quest'area dura, cechevarista del Di Battista dicono che il Movimento 5 Stelle faccia parte delle quattro sinistre bene, che il Movimento 5 Stelle magari con Di Battista diventa una vera sinistra che va a sostituire l'EU, il cechevara di Battista, il cechevara italiano di Noé Autry ecco, così quindi ha il supporto anche di Davide Casaleggio che ha un'influenza notevole con Beppe Grillo il comitato di garanzia che comprende anche Vito Crini reggente, impectore del Movimento chiama direttamente in causa il garante Beppe Grillo fissa un termine per le elezioni del nuovo capo politico dei 5 Stelle le consultazioni saranno a svolgere entro fine del 2020 beh, comunque ci sono otto mesi si legge in una lettera legata al posto dei 5 Stelle che spiega la decisione dice, ritengo indispensabile che il comitato di garanzia alla luce delle eccezionale condizioni di emergenza sanitaria, sociale, politica ed economica in cui versa il Paese attenda la normalizzazione della situazione scrive Grillo motivando la deroga allo statuto con le circostanze eccezionali ed imprevedibili come quelle che stiamo vivendo imprevedibili attenzione, attenzione caro Beppe Grillo le circostanze imprevedibili mi spiace contraddire un elevato del tuo peso ma le circostanze imprevedibili non è vero il governo sapeva dal 4 di gennaio aveva anche un piano secretato di emergenza si parlava da 600.000-800.000 morti quindi il tuo caro governo perché tu hai lì il tuo movimento 5 stelle che è la maggioranza nella maggioranza attenzione che i 5 stelle sono quelli che hanno più parlamentari e più senatori in questo momento perché riflettono comunque le elezioni del 2018 quindi caro Beppe Grillo quando mi parli della situazione eccezionale ed imprevedibile eh no, era prevedibilissima era prevedibilissima e questa non è un'opiniozze un'opiniozze non è un'opinione ma una solida realtà come diceva in una pubblicità io non vendo sogni ma solide realtà chi è che era? non me lo ricordo e così caro Beppe Grillo non era imprevedibile poi un'altra precisazione quando tu parli di condizioni di emergenza sanitaria sanitaria, ok sociale, ok economica, ok politica come emergenza politica che vuol dire? ci hai messo dentro un po' di termini così? tutti quelli che ti venivano in mente no? ma hai dimenticato ambientale, galattica cosa c'entra l'emergenza politica? come? ti ripeto il tuo partito il tuo movimento che è un partito il movimento è solo il nome il movimento 5 stelle il tuo partito che è al governo ed è maggioranza nella maggioranza è in emergenza politica eccezionali condizioni di emergenza tu dici sanitaria sociale e politica quindi tu sei tu vedi il movimento 5 stelle e il governo in una condizione di emergenza politica e quindi qui ti sei tradito ti sei tradito e vedi il governo che sta Anna Spando caro Beppe Grillo prima di scrivere in quanto tu sei un elevato ti definisci un elevato caro elevato prima di scrivere delle cose elevate rileggile prima di schiacciare il tasto invio perché poi c'è chi ti fa le pulci come me ma la decisione di Beppe Grillo ma Beppe Grillo si chiama Giuseppe Grillo o si chiama veramente Beppe Grillo? beh chi lo sa la decisione è arrivata dopo una conference call prima di parlare in inglese se no non siamo nessuno ricordatelo martedì sera che ha visto riuniti vertici crimi compreso crimi compreso come dire dai crimi vieni anche tu così così ascolti anche tu in cui appunto sono state messe sul tavolo le divergenze di vedute il rinvio di fatto cristallizza uno status quo che vede il movimento sempre più lacerato solo questa settimana due parlamentari sono stati espulsi quattro eurodeputati hanno ricevuto la lettera di avvio di una procedura nei loro confronti da parte dei probiviri oggi invece hanno dato l'addio ai 5 stelle Antonio Zennaro e Fabiola Bologna entrambi alla Camera e a Montecitorio ben sette deputati hanno votato contro l'ordine di scuderia del movimento tensioni che si riflettono sulla base sempre più critica e distante dai pentastellati certo gli addi sono passati un po' sottotono ma sono importanti perché i numeri sono realmente sotto il livello minimo per far passare le leggi nella maggioranza voi sapete che Conte si affida al gruppo misto anche quelli cacciati vanno nel gruppo misto e voteranno per il governo e voteranno per il Movimento 5 Stelle perché per non perdere lo stipendio perché se crolla il governo loro che non hanno più un partito sono disoccupati pronti per andare a lavorare nell'agricoltura come dice la Teresa Bellanova abbiamo bisogno di 250.000 persone nell'agricoltura quindi i trombati dei 5 Stelle potrebbero andare a lavorare nei campi a raccogliere i pomodori io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nella pagina Tele Italia io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci